dottore sono venuto da lei perché sono molto preoccupata mi dica signora ho un bambino mio figlio che ha sei anni e mi dà un sacco di dolori quando sta con i compagni dottore li martorizza mette dita negli occhi tira le orecchie tira i capelli insomma li fa all'ora di notte dottore signore è normale è un bambino sì ma quando siamo in casa per esempio qualunque luogo siamo prende roba accende incendia prende mette tutto nel forno tutto nel forno è normale è un bambino sì dottore ma con i compagni è un attila e non si capisce li maltratti a sentire i capelli strappa le braccia di un uccellino a qualcuno sono disperata dottore signore è normale è un bambino va bene tutto qua arrivederci signor cappler arrivederci signora hitler hai 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 sistemate asing a condite stateagh